Salve a tutti e benvenuti su Track Channel. In questo brevissimo video mostrerò come scaricare la prima traduzione di Imperator ROM. La traduzione è stata effettuata dal sito BOP Italia e anche grazie ai suoi collaboratori. Voglio consigliare anche l'iscrizione a questo sito perché qualsiasi cosa serve sono sempre presenti. Ogni volta che si chiede un aiuto su qualsiasi gioco sono sempre presenti. In più voglio ringraziare per tutti i lavori che hanno svolto in questi anni. Hanno fatto tantissime traduzioni, infatti sull'home page potete trovare tantissime traduzioni di altri giochi, soprattutto della Paradox. Allora, intanto nel video incollerò sotto direttamente l'indirizzo dove è arrivare qui alla pagina di Mega. Qui facciamo scarica. Io adesso non lo primo perché è già stato scaricato. Una volta scaricato, andiamo su Download, io per esempio mi da su Download e apriamo la cartella RAR Imperator Beta 1.0. In questo caso ci troviamo tutti questi file. Quindi non dobbiamo fare altro che andare su Steam, Steam Apps, Common, Imperator Rom, Ganem. Quindi allora, Steam, Steam Apps, Common. Aprire la cartella di Imperator Rom. Andare sulla cartella Game. Sulla cartella Game apriamo la cartella Localization. Ok? E c'è questa qui che è English. Noi dobbiamo fare un copia e un colla di tutti questi file. Allora, intanto io mi salvo e vi consiglio anche voi di farlo, di farvi una copia della cartella English. Perché se doveste avere qualche problema non fate altro che poi rimettere la cartella originale. Comunque, torniamo a None. Tutti questi file, noi li trasferiamo dentro la cartella English. Sostituisci i file di destinazione. E la traduzione è fatta. Il video, come avevo predetto, è molto breve. Tutto semplice. Io l'ho già provato. Ovviamente non è la traduzione completa. Diciamo che è una beta, come si vede anche qui nella cartella. E sicuramente fra un po' di tempo dovremmo trovare una traduzione più completa di questo gioco. Che sinceramente mi è piaciuto tanto, ma sto aspettando un nuovo DLC. Il video finisce qui. Intanto ringrazio il lavoro e il grande lavoro della BOP Italia. Anche di chi in questi mesi ha collaborato con essa e ha fatto questa traduzione. Vi invito a iscrivervi proprio a questo sito. Il video finisce qui. Ciao a tutti. Se vi è piaciuto lasciate un like. Perché se vi fa piacere iscrivetevi al sito. Ciao a tutti di nuovo da TAC Channel.